E c'è da dire che ieri per la prima volta c'è stato sold out, tutto esaurito qui al Pala Alpitour, 12.000 spettatori, c'è un altro anche il numero preciso degli spettatori finora, 80.302, un successo che si spera di ripetere anche nei prossimi anni, anche oltre il 2025, come ci spiega Stefano Tallia. La partita, fuori dai campi da tennis e tra le scrivanie del governo dello sport, è già iniziata. Tra un anno sapremo dove si disputeranno le finals a partire dal 2026 e anche se la speranza che in molti iniziano a cullare sul prolungamento dell'esperienza torinese potrà avverarsi. Perché questo accada è però necessario che molte palline vadano appunto per usare una metafora tennistica. Anzitutto ci vuole che il governo e Federtennis confermino la volontà di candidare l'Italia disponendo le dovute coperture economiche. Poi ci vuole che Torino vinca la concorrenza di città come Milano e Bologna che hanno mostrato un interesse forte per l'evento. E infine è necessario convincere l'ATP che potrebbe essere tentata dalle sirene di piazze internazionali più ricche da un punto di vista economico. Tutti elementi che inducono il sindaco rurusso a guardare con interesse ma anche con cautela alla possibilità del prolungamento. Finiamo bene questa edizione che sta andando davvero alla grande. Siamo molto contenti dello sforzo organizzativo che abbiamo messo in campo. Mi sembra che le cose stiano andando bene, le persone sono molto contente, la città è piena di turisti. Certo, molto dipenderà anche dall'attrattività che il territorio saprà avere su di sponsor. Una discussione che rimbalza anche alla casa del tennis di Palazzo Madama dove si parla appunto dell'impatto delle sponsorizzazioni sportive sul successo degli eventi. L'anno scorso era un po' una rampa di lancio. Quest'anno ho visto che l'organizzazione è decisamente migliorata, quindi non può che migliorare nei prossimi anni le strutture, la ricettività che offre Torino oramai è senz'altro aumentata. Quel che è certo è che Torino ha già iniziato a lavorare sull'eredità delle final, avendo nel taschino anche l'ipotesi di portare stabilmente sotto alla mole un torneo ATP perché la presenza dei grandi della racchetta in città non resti solo una parentesi.